ma benvenuti tutti ragazzi buon pomeriggio e ben ritrovati dal vostro bomber nero azzurro allora finito il campionato per la nostra inter inter batte udinese per 5 reti a 1 una partita diciamoci la verità una partita dove l'inter l'ha fatta da padrona l'udinese a parte il calcio di rigore realizzato da pereira non ha fatto niente di così importante bravi ragazzi finalmente finiamo questo campionato abbiamo alzato questo scudo questa coppa dello scudetto di serie a team dopo tanti anni sono 19 i scudetti sperando che sia un ciclo che continuerà ad andare avanti ragazzi perché veramente mi auguro che il ciclo vada avanti senza stopparci quest'anno cioè non è che abbiamo fatto solo quest'anno e poi non facciamo più niente quindi mi auguro che sia un'apertura di un ciclo che continui ringrazio tutti quanti veramente tutti quanti ora mi piero un po' di pausa giustamente a parte stasera che ci troverete sul canale viola su twitch a commentare l'ultima giornata di serie a farò il gufo sulla juventus quindi ragazzi che fate non passate farò il gufo e niente vi ringrazio a tutti quanti del supporto di tutte le live passate insieme di quest'anno calcistico si gode si goda la goduria è tantissima la goduria è estrema cioè veramente ora poi faremo le live sull'italia perché ci sarà l'europeo prima c'è l'amichevole ora col san marino ma poi entreremo nell'europeo quindi io farò le live sulla nostra nazionale italiana sperando anche lì di andare avanti e fare bene nell'europeo poi che dire ragazzi grazie a tutti per il supporto amala sempre sempre forza inter siamo noi siamo noi i campioni dell'italia siamo noi siamo noi siamo noi i campioni dell'italia siamo noi siamo noi siamo noi siamo noi i campioni dell'italia siamo noi siamo noi siamo noi i campioni dell'italia siamo noi siamo noi siamo noi I campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo prossimamente con le live dell'Italia e vi aspetto questa sera su Twitch, canale Arena Sportiva. Mi raccomando ragazzi, sempre solo forza Inter, amala sempre, prossimo anno voglio la seconda stella, la seconda stella, ventesimo voglio. Ci vediamo ragazzi, ci vediamo, ciao raga, grazie a tutti per il supporto del vostro bomberone.